Il cane abbaia quando passa vicino al divano. Cosa devo fare? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi parliamo di un problema comune a molti cani e che coinvolge molte persone durante la loro vita con il cane. Da quando il cane è entrato nella casa delle persone sono subentrati i problemi che fino a qualche anno fa erano impensabili e molti sono diventati evidenti quando si è cominciato a dividere gli spazi in casa. La condivisione degli spazi porta il cane a sentire un'invasione e quindi si sente autorizzato a difenderli mediante un ringhio o con dell'aggressività. La prima cosa da fare è evitare che accada di nuovo e per farlo dovrete diventare degli abili osservatori del vostro cane. Se il cane vi ha ringhiato in un corridoio o in un punto di passaggio della casa, cercate di inviarlo nella cuccia in modo che diventi l'unico punto di riposo. Se vi ha ringhiato dentro la sua cuccia, appena si alza spostatela e metteretele nel luogo riparato in modo che sia nascosto dai vari passaggi. La cuccia per il cane deve essere un luogo di tranquillità, pertanto quando dorme non deve essere assolutamente disturbato. Contattate immediatamente un esperto del comportamento al primo insorgere di un ringhio. Se l'intensità del ringhio è bassa, contattate un esperto educatore che sappia leggere le forme di aggressività in fase iniziale, capire lo stato emotivo del cane e quali motivazioni sono insite in lui, considerando anche la memoria di razza e soprattutto le emozioni che si notano durante l'emissione del comportamento. Se l'educatore cinofilo lo ritiene opportuno, bisogna contattare un medico veterinario comportamentalista per un'eventuale visita. Nel frattempo è bene mantenere un assetto familiare tranquillo, seguendo i punti indicati, in modo da non far nascere il comportamento sgradito. La cuccia per il cane è come il letto per noi, rappresenta la tana, il riparo dalle incombenze quotidiane e non deve sentire tale luogo minacciato. È fondamentale che in casa viva l'armonia e che non si mettano in campo atteggiamenti volti a testare la sudditanza del cane perché non è così che si dimostra la leadership. In questo frangente è importante rendersi conto che siamo di fronte ad un problema che al cane crea disagio e che va risolto quanto prima nel ripristinare la sua tranquillità e di conseguenza anche la vostra. Spero che questo video vi possa essere stato utile per cominciare a capire i primi segnali di disagio del vostro cane. Seguiteci sui nostri canali social e mettete un like al nostro canale YouTube.